E' partito dalla Toscana il tour italiano a trazione investimenti con un evento organizzato nella sede della Presidenza della Regione in collaborazione con il tavolo di coordinamento Stato-Regioni per l'attrazione degli investimenti di cui fanno parte il Ministero dello Sviluppo Economico e del Lavoro, il Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, l'Agenzia ICE e la Conferenza delle Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano. Obiettivo è gettare le basi di una catena strutturata di governance che sappia facilitare l'ingresso di investitori e capitali in Italia e non è un caso che il tour sia partito dalla Toscana. Siamo una regione che da subito ha creduto in una collaborazione con il Sistema Italia e non a caso siamo la prima regione che nel 2015 ha firmato un protocollo d'intesa con il MISE e con l'ICE per promuovere l'attrazione di investimenti e non è un caso perché siamo una regione che da questo punto di vista si difende piuttosto bene. Nell'ultimo quinquennio siamo la terza regione in Italia come capacità di attrazione di investimenti. A spiegare il perché sono i numeri, in Toscana si contano 460 multinazionali con 615 unità locali, una rete capillare di piccole e medie imprese e un PIL pro capita di 28.300 euro superiore alle medie nazionale ed europea che colloca la regione tra le più ricche non solo d'Italia ma d'Europa, elementi che ne fanno un importante polo di attrazione degli investimenti. La Toscana è attrattiva, l'abbiamo dimostrato, l'abbiamo verificato anche in occasione del progetto di GLO Young Gas che ha portato qui sostanzialmente tutta la parte del Turbo Machinery a seguito della fusione che c'è stata negli Stati Uniti. La Toscana è importante, lo è per i flussi turistici e anche per i relativi investimenti in quel settore. Siamo in una città che ha la più alta concentrazione di opere d'arte per chilometro quadrato a detta dell'UNESCO. Quindi le opportunità per la Toscana ci sono molte perché poi c'è una manifattura molto forte quindi insomma è una regione anche amministrata piuttosto bene direi insomma quindi non lo dico perché sono ospite insomma quindi direi buone, direi buone, sicuramente buone. I vantaggi dell'attrazione degli investitori sono molteplici anzitutto per quanto riguarda l'occupazione sia che si tratti di investimenti greenfield cioè creazione di nuove imprese sia che siano brownfield cioè finalizzati ad ampliare le imprese che già ci sono e poi ci sono i capitali che come è stato sottolineato nel corso dell'evento garantiscono innovazione e proiettano le imprese su mercati lontani. Credo siano i risultati sia la presenza di oltre 600 aziende con un'occupazione che sicuramente è stata mantenuta e incrementata anche nel periodo di crisi grazie all'export e grazie all'internazionalizzazione di queste aziende che comunque hanno permesso anche di mettere in rete anche delle PMI visto che è il numero di presenza maggiore nel paese ma anche nel territorio toscano credo che questo sia l'impegno che la regione che tutti anche Confindustria ha posto come nei primi punti di programma e quindi ha dato dei risultati sicuramente da migliorare perché non siamo i primi in Italia ma sicuramente siamo nelle prime posizioni. Questo nonostante la congiuntura a livello mondiale sia sempre più incerta e minata dal rischio di guerre commerciali tra le principali economie a colpi di dazzi i cui contraccolpi potrebbero creare problemi anche in Toscana in particolare alle imprese dell'export più della metà diretto verso l'Europa e che costituisce all'8% di quello nazionale. Ma questo clima influisce già? Ma influisce sicuramente molto e quindi infatti a livello di dati internazionali abbiamo visto un rallentamento negli ultimi anni questo ci spinge a pensare che dobbiamo tenerci strette quelle che sono le aziende che sono già localizzate quindi magari continuare sia ad attrarne di nuove ma soprattutto lavorare al mantenimento di quelle che sono già presenti in regione. Per questo nel corso della prima tappa del tour italiano a trazione investimenti si è cercato di mettere insieme esperienze e contributi per rafforzare la struttura che già esiste a supporto di chi vuole investire in Italia. In Toscana da alcuni anni attiva la struttura Invest in Tascani voluta dal presidente Enrico Rossi mentre a livello italiano dal 2014 è stato creato il comitato a trazione investimenti esteri che accoglie gli investitori e poi l'agenzia ICE che garantisce il primo contatto fuori dai confini nazionali. Dal 2015 abbiamo iniziato una struttura di desk all'estero nelle nuove piazze finanziarie più importanti e grazie a questi desk che ogni giorno vanno a incontrare investitori stiamo andandoli a incontrare, spiegandogli perché investire in Italia e poi li stiamo aiutando in tutta la prima fase dell'investimento. Dall'anno scorso abbiamo firmato un accordo con Invitalia e quindi abbiamo creato un gruppo di lavoro congiunto che aiuta da un lato a dare tutte le indicazioni all'investitore per decidere di investire in Italia. Dall'altro poi lo accompagna step by step in tutte le fasi dell'investimento. Il terzo importante passo è tutto il lavoro che stiamo facendo con le regioni abbiamo firmato 15 accordi operativi con le regioni stiamo firmando dei piani annuali di attività congiunte per definire in modo chiaro processi e attività tra il governo centrale e le regioni. Anche in questo caso il quadro tracciato nel corso dell'evento conferma la Toscana come una calamita per gli investitori di oltre confine. La Toscana è sicuramente una delle regioni più avanti in termini di attrazione e investimento è stata la prima regione che ha firmato l'accordo nel 2015 l'abbiamo di recente rinnovato perché l'accordo dura tre anni è una regione che si sta muovendo anche in termini promozionali assieme in coordinamento con noi in modo molto efficace si è stati a Boston di recente al Baio ed è su alcuni elementi sicuramente una delle regioni attrattive per l'investitore estero. L'importante, questo uno dei punti fermi emersi nel corso della prima tappa del tour a Firenze è proiettarsi sull'estero e semplificare le regole per rendere l'Italia e di conseguenza la Toscana più attrattiva per chi abbia voglia di investire capitali ed energie con un obiettivo preciso. Di essere un pochettino più efficienti dentro casa nostra quindi quello di sostenere, aiutare, facilitare le operazioni di investimento che vengono realizzate in Italia da operatori stranieri mi riferisco soprattutto a investimenti greenfield cioè a nuovi progetti, alla costruzione, ne parlerò di un centro commerciale che è un'operazione apparentemente semplice ma non l'è affatto oppure la realizzazione di un nuovo impianto industriale che si porta dietro tutta una serie di implicazioni in termini di autorizzazione di impatto ambientale eccetera tutti quanti gli investitori stranieri dicono che all'estero è più facile poi cerchiamo di capire se poi in realtà è vero quello che dicono e comunque sicuramente noi possiamo fare molto meglio Tra i settori più vivaci sul piano dell'attrazione e degli investimenti ci sono quelli per cui la Toscana è nota in tutto il mondo in particolare moda e made in Italy ma anche agroalimentare e tecnologia punte di diamante che hanno spinto molte aziende a stabilire in Toscana il proprio quartier generale Sicuramente il settore della pelleteria dove ci sono degli importanti investitori che stanno ampliando i propri investimenti perché la Toscana è il meglio nel settore nelle biotecnologie grazie a tutta la struttura dell'incubatore e più in generale però anche sul textile e su tutto ciò che riguarda l'histyle Obiettivo del tour è anche quello di mappare queste imprese per individuare incentivi ma anche siti produttivi dismessi da valorizzare e da far rinascere Io credo che si debba più contare sul mantenimento di quelle che abbiamo che sono i migliori sponsor sull'attrattività Noi dobbiamo curare le aziende non fermarsi a trarle e a insediarle ma curare la loro vita e contare proprio sulle aziende che ci sono partendo da nuovi investimenti delle aziende ormai residenti che non ci scordiamo al momento che vengono qua sono aziende italiane perché pagano le tasse in Italia creano occupazione quindi vanno curate e non solo al momento che qualcuno per motivi vari può pensare invece di delocalizzare o anzi tornare e andare in altri paesi questo è importante, credo sia il punto che vada oltre l'attrazione e questa poi è la vera attrazione per le nuove imprese Insomma le imprese hanno bisogno di essere accompagnate e guidate anche attraverso il raccordo costante con gli enti territoriali regione prima di tutto attraverso un sistema che deve soddisfare una condizione specifica Cercare di andare verso una semplificazione della vita delle imprese e degli imprenditori Alla fin fine quello che noi possiamo vedere come osservatorio regionale è che al di là degli incentivi le aziende apprezzano molto un governo regionale che le prende per mano e le porta anche a districarsi attraverso quelle che sono le procedure burocratiche Se riuscissimo poi ad avere anche una semplificazione a livello centrale questo sicuramente aiuterebbe molto Dopo la prima tappa in Toscana il tour proseguirà dopo l'estate in Friuli Venezia Giulia, in Lombardia e nelle Marche Grazie a tutti